Non vi spaventino Le molte insidie della bestia infernale Gesù che è sempre con voi E che combatterà con voi e per voi Non permetterà giammai che voi Possiate venire contraffatta e vinta Ben ritrovati cari fratelli e cari sorelle Cari amici anche cari confratelli qui Dagli studi di Teleradio Padri Pio Per un pensiero e il buongiorno di Padri Pio Con una lettera famosissima Famosissima peraltro rarissima Che Padri Pio indirizzò e scrisse ad Annita Rodote Quando appunto gli era stato ingiunto il silenzio E grazie al quale riusciva a rimanere in contatto Via epistolare con le sue figlie spirituali Questa è Annita Rodote Una delle figlie spirituali di Padri Pio Delle prime figlie spirituali di Padri Pio Che cosa contiene il pensiero di questa lettera? Come abbiamo sentito Si parla del maligno Del maligno che porta ad essere tentati Che porta ad essere provati Che ci incute, dice Padri Pio Lo avete sentito Paura e tremore Ora qui mi si è concesso aprire uno squarcio Molto interessante Riguardante una sezione della spiritualità di Padri Pio Che è stata non del tutto studiata L'anno scorso nel 2019 mi si è concessa la citazione Ho pubblicato un volume piuttosto consistente Dal titolo Angeli e demoni in Padri Pio Il mondo interiore del santo stigmatizzato Dove ho fatto vedere Prima di arrivare subito ad Annita Rodote Come anche Padri Pio Soprattutto di notte fosse Uso il termine dichiaratamente Vessato da barba blu Cioè dal diavolo Dal satana Dal maligno Che continua Anche adesso a insinuarsi Tra quelle fessure più inimmaginabili Della nostra esistenza Anche se è vero Come ho dimostrato nel libro Che era continuamente consolato Da tanti angeli Che gli facevano compagnia Soprattutto durante le ore notturne Annita si confida con Padri Pio E pure lei gli dichiara Di essere per così dire Continuamente disturbata Vorrei dire proprio vessata Da voci, da suoni, da rumori Di questo maligno Che porta delle tenebre Ma Padri Pio gli dà tre suggerimenti Che sono fondamentali E che lui aveva Può dare perché aveva sperimentato Nella sua persona Attenzione ripeto Sono fondamentali Primo Gesù Cristo risorto Avrà sempre la meglio Su barba blu Cioè sul male Che fratelli e sorelle Dobbiamo essere coscienti E realmente presente Nella società E nella nostra ferialità Talvolta anche all'interno della Chiesa Gesù sarà sempre il vincitore Secondo Nella sua divina providenza Dio Padre permette Dio Padre permette che noi siamo tentati dal demonio Dal maligno Dalle tenebre Proprio per essere veramente cristiani Cristiformi Si dice esattamente in linguaggio teologico Come infatti fu tentato Gesù per 40 giorni e 40 notti Quando fu sospinto nel deserto Quindi uno che non fosse o una che non fosse tentato dal maligno Di per sé A rigore di termini Non sarebbe un autentico cristiano Ma è la terza intuizione O il terzo suggerimento Che Padre Pio dà per consolazione ad Annita Rodote Ed è questo Quando gli dice Tu entri nelle tenebre che ti procura il maligno Stagli lontano Fuggi via Peraltro lo dice anche Papa Francesco In vari suoi interventi Quando noi sentiamo vicino a noi la presenza del male Non bisogna trattare con il male Bisogna semplicemente rifugirlo Scappargli Stargli lontano Ma vorrei concludere con un messaggio di speranza È vero Il male può essere presente nella nostra vita Lo è Noi siamo creature fragili Siamo creati a immagini e somiglianza di Dio Come dice Padre Pio Ma abbiamo appunto il vullus Del peccato originale Che ci è stato cancellato nel giorno del nostro battesimo Ma che ha lasciato la ferita della concupiscenza Quindi Diciamo così Il male può sempre cercare di avvigliarci Di avvolgerci E di provocare in noi la caduta nel peccato Ma ci sono sempre anche gli angeli custodi Che sono appunto gli intermediari tra l'onipotenza di Dio E la nostra ferialità La nostra banalità Ora Se dovesse esserci questa presenza del male Questa tenebra Questa mancanza di luce Ricordiamoci sempre Che anche Gesù fu tentato dal diavolo Ma come riuscì a vincerlo? Presentandogli la vittoria della parola di Dio Tratta dalla Sacra Scrittura L'insegnamento conclusivo di questo stupendo pensiero di Padre Pio è questo Ti senti tentato dal male o dal diavolo Apri la Sacra Scrittura Invoca lo Spirito Santo E tutte le tenebre e le tentazioni Spariranno come in una bolla di sapone Spariranno come in una bolla di sapone